Sabato 6 gennaio, epifania di nostro signore, è il sesto giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 360 al termine, il sole sorge le 7.50, tramonta le 16.43, la luna si leva le 2.35 e tramonta le 12.31. Il doge e tutta la signoria vanno in processione sorenne nella cattedrale di San Pietro di Castello per la festa di San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia. Le previsioni per domani, cielo coperto, precipitazioni, probabilità di notte ancora alta per fenomeni estesi nel corso della giornata in diminuzione, di sera bassa sui monti per fenomeni locali, e del tutto assenti sulla pianura. Quota neve in graduale abbassamento col passare delle ore, fino a 900 mille metri sulle prealpi e 800-900 sulle dolomiti. Accumuli giornalieri da moderati a modesti, andando da sud-ovest a nord-est. Temperature in caldo leggero o moderato rispetto a sabato, con minime raggiunte a tarda serata. La giornata di San Lorenzo Giustiniani La giornata di San Lorenzo Giustiniani atched a Lilian Giustiniani La giornata di San Lorenzo Giustiniani тонVO